Signore e signori buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video, questo primo video dalla casa del 2023 che sarà un update perché non è il tour finale visto che la casa non è ancora completamente pronta, ci sono tantissime cose ancora da fare però era giusto farvi un piccolo update. Questo video tra l'altro è realizzato in collaborazione con Norgo PN, uno dei miei sponsor preferiti del cuore ve ne parlo tra pochissimo ma se volete già maggiori informazioni trovate il link in descrizione con la mia pagina personalizzata ho messo anche tipo con la mia foto, c'è scritto norvpn.com slash surry, è molto bellina la pagina quando l'ho vista la prima volta mi sono sentito un po' in imbarazzo, però è fighissima davvero sono cambiato un botto di cose dall'ultima volta che vi ho mostrato questa casa, in primis il fatto che finalmente ho degli armadi sì, diciamo che la casa potrebbe essere operativa ora, manca solamente il materasso che non c'è per un fattore principale c'è il fatto che ho ancora la casa con Stefano e Tudor, quindi dormo ancora lì, quando daremo via quella allora porto il materasso di qua e questa diventerà a tutti gli effetti la mia dimora tra l'altro non so se si nota ma è cambiata anche la parete ora prendo il telefono e facciamo un bel giro, però mi piaceva questa inquadratura ho attaccato il telefono alla porta e voi direte come? Con una ventosa comunque sì, penso che questa sarà un'inquadratura fissa perché è davvero bello, cioè mi piace mi gusta, vabbè, allora, cosa è cambiato? cosa è cambiato? appena entriamo, vabbè, mini tour velocissimo cucina, zona entertainment, lì ci sono delle cose per terra perché è ancora un po' incasinato ma ve l'ho detto entertainment barra salotto e di qui abbiamo il primo armadio che è zona lavanderia barra sgabuzzino con lo specchietto, ora vi racconto bene tutto è giusto per chi non si ricorda com'è fatta la casa di qui abbiamo la sala con quello che sarà il letto con il materasso un grande armadio che occupa tutta la parete che è il main storage della casa un po' come in minecraft angolo studio con scrivania e altre cose e questo è il bagno allora, potenzialmente nel bagno vorrò fare dei lavori potenzialmente la cucina, per quanto mi piaccia, vorrò poter cambiare qualcosa però per il momento direi che siamo a uno stato davvero, cioè mi piace quando entro in questa casa dico cacchio che figata e questa è la ventosa che ho attaccato alla porta appena entri sulla destra, non so se lo ricordate, ma qui era tutto vuoto abbiamo realizzato un armadio su misura come vedete ci sono alcune parti di questo armadio che sono più corte quella centrale è più larga ed è fatto in modo da contenere la lavatrice barra asciugatrice sotto in teoria è fatto per averne due quindi potrei mettere la lavatrice sotto e l'asciugatrice sopra ma ho optato per un modello che sia lavatrice che asciugatrice quindi ho più spazio che insomma non mi fa schifo di qui vabbè zona angolo scope scopette e robe varie ma ancora devo organizzare bene questi armadi qua ci sono queste che sono decisamente troppo lunghe quindi dovrò sbarazzarmene e vabbè lì c'è il treppiedi per il momento anche qui da capire probabilmente sarà anche tipo mezzo dispensa o magari ci possono mettere abiti, soprabiti quando invito gente boh da capire per il momento tanto alla fine è sempre la sedia che diventa il portagiubbotto qui ho preso un piccolo tavolino, il botatasche, basetto insomma ho riempito quest'angolino qui in questa maniera posso avere ancora più spazio perché insomma sono dei bei cassetti capienti non so cosa ci metterò dentro però sono 50 metri quadri di casa quindi un po' di spazio serve come serve un bello specchio perché lo specchio dà un botto di profondità aumenta tantissimo la luminosità della casa già questa casa è molto luminosa di per sé perché insomma abbiamo anche le finestre sul tetto però degli specchi aiutano sempre e questo in particolare direi che è un bello scorcio come vedete anche l'armaio di là c'è un bello specchietto di qui vedete il tavolo vecchio sembra un po' una composizione tipo non lo so, mi piace quel cerchio così messo a caso quindi non è cambiato praticamente nulla quest'angolo rimane intatto devo ancora capire cosa mettere qui perché voglio metterci qualcosa avevo una robettina in mente ma costa palesemente troppo quindi non lo farò qua c'è l'angolo internet importantissimo con 8000 scatoline prese sperando che non prendano mai fuoco qui c'è il modem oltre al modem mi capita spessissimo di usare in casa anche NordVPN che come vi dicevo mi supporta nel realizzare questo video e di solito vi parlo di NordVPN quando sono all'estero in contesti particolari perché usare NordVPN quando non sei sicuro della connessione che stai usando è non dico un must però insomma fa davvero davvero comodo per chi non lo sapesse NordVPN è una piattaforma che ti consente di navigare su internet in maniera molto più sicura non solo mascherando il proprio IP perché ti puoi collegare a oltre 5000 server da tutto il mondo ma anche proprio come protezione dalle minacce quindi malware, phishing circolano davvero tante tante cose su internet e non tutte sono belline e non tutte vogliono farvi del bene quindi perché uso NordVPN anche a casa? beh a volte mi capita ad esempio quando sto prenotando dei viaggi questa è una cosa che vi dico spesso perché è forse una delle mie funzioni preferite dell'utilizzare una VPN come NordVPN quando prenoti dei viaggi se tu cambi l'IP su molti siti potrai avere dei prezzi più vantaggiosi a seconda dell'IP che utilizzi oppure se torni più volte a vedere un volo perché sei indeciso noterai che ogni volta sale il prezzo se cambi l'IP puoi resettare questa cosa che le compagnie aeree usano per pomparti insomma la spesa che devi avere per non parlare dello streaming perché succede che ci sono alcune cose che per vederle devi avere un determinato IP come vi dicevo hanno creato la mia pagina personalizzata che è nordvpn.com slash surry e vi invito ad andare a visitare questo sito non solo perché avete sempre l'offerta aggiornata più conveniente possibile e sono offerte esclusive dedicate a me e alla mia utenza è proprio divertente perché vedi tutte le immaginine con la mia faccia e si è molto simpatico ecco non avete scuse per non provarlo perché come sempre c'è il 30 giorni soddisfatti o rimborsati ora se il tavolo è ancora qui perché non l'ho smaltito lì ci sono altre cose che non mi interessano non l'ho smaltito perché ancora non ho devo chiamare uno sgombero perché devo uno sgombro il pesce vabbè devo chiamare qualcuno che porti via la roba perché ho diverse robe da portare via è arrivato il tavolo nuovo che ho preso per riprendere il tavolo da caffè di cui vi parlo ora quindi è questo vetro fumè con la base ottonata barra dorata questo bel materiale che riflette le mille luci che ci sono per la stanza c'è un problema vi ricordate come questo era rotto ed è anche per questo che l'ho cambiato non solo perché era temporaneo comunque si si è rotto ho preso il tavolo nuovo però a quanto pare ho una maledizione per quanto riguarda i tavoli c'è aspetta dov'è? dov'è? non lo vedo eccolo qua scheggiato cioè se ci passi il dito sopra non senti nulla però è palesemente scheggiato potevo mandarlo indietro? assolutamente sì l'ho fatto? assolutamente no quindi questo è il mio nuovo tavolo quella scheggia rimarrà lì a quanto pare ho una maledizione legata al tavolo che non può essere intatto ma ce lo facciamo andare bene ce lo facciamo andare bene e devo dire che rispetto a quello lì rende la stanza completamente diversa un po' perché è in vetro riflette le luci quindi comunque vedi si vede riflette la luce in una maniera che sembra scontata sembra banale ma non lo è la stanza diventa molto più luminosa aggiungendo specchi e vetri poi vabbè è fumé quindi da anche quel non so che di non lo so non so che si chiama si dice così apposta vabbè l'angolo divano è rimasto intatto ora parliamo un attimino della parete e questo invece è il termino da caffè anche qua vetro fumé questo è artigianale ci ha messo qualche mesetto per arrivarmi perché per l'appunto era un'azienda italiana che ci ha messo un po' anche qui base ottonata barra dorata che riprende il tavolo e sopra è questo bel fumé un vetro che non so come si chiama però un nome particolare molto bello qui la mia mitica scacchiera che ho ordinato con i scacchi pesati vellutati è molto carina un po' pacchiano questo angolino obiettivamente sì ci va bene lo stesso ci va bene lo stesso con l'aggiunta nell'angolo oltre alla pianta pianta finta non cagatemi il cazzo ragazzi non so come dirvelo che io se provo a prendere delle piante mi muoiono tutte ho messo questa mezza torre greca che è un tavolino su cui ho messo questa base di cemento che in realtà ho preso a parte dal tavolo perché era nella base del tavolo ho detto vabbè riutilizziamola volevo prenderne una di marmo nero per fare contrasto ma anche il cemento così tanto schifo non mi fa e qui vabbè c'è la vittoria di Samotracia bellissima che è quella che ho preso dal Louvre nel senso non che l'ho rubata dal Louvre anche perché l'originale è un po' più grande ma giusto un pochino però dal negozio di Louvre si possono ordinare delle copie fatte ad hoc certificate da loro di dietro c'è la luce la parete allora cosa è cambiato dalla parete mio padre tipo durante le vacanze di Natale viene da me mentre ero a casa mi fa c'è un problema che succede belli gli armadi nuovi però non c'entra un cazzo con la parete che ti ho fatto l'anno scorso e io ho detto boh vabbè ma sai è giallino comunque riprende un po' il mood di alcune cose ci sta nel senso non mi dispiace mi fa no non va bene vengo a rifartelo ok manco fosse casa mia no e vabbè comunque è venuto mio padre a rifare sia questa parete che quella di là con questo effetto che è molto carino perché è simil cemento quando però arriva la luce vedi che fa un po' di effetto riflesso ed è molto bello in questa stanza ci sta benissimo perché vabbè è molto più chiaro riprende il bianco delle altre pareti quindi obiettivamente rispetto al giallo è più carino poi vabbè mio padre lo fa di lavoro quindi se non lo sa lui chi lo deve sapere ma soprattutto di qua di qua sta benissimo ancora manca un'opera che dovrò scegliere da mettere come testata del letto però guardate questo angolino riprende quel quadro che ho di là riprende un po' i colori dell'arredo a parte il legno lì però vabbè il legno a me piace non ci posso fare nulla riprende i colori della situazione anche dell'armadio e direi che ci sta davvero la grande ultima cosa ma non meno importante di questo update l'armadio l'armadio che è largo tipo 3 metri e qualcosa non so di preciso quanti metri sono però è davvero grande sono due ante scorrevoli perché per la disposizione della casa come vedete di spazio non è che ce ne sia infinito sono comunque 50 metri quadri quindi va sfruttato tutto nella maniera più intelligente possibile io ho detto al designer che mi ha preparato questo progetto che volevo uno specchio integrato perché per l'appunto mi mancava uno specchio a tutta figura e comunque luminosità tutte le solite questioni profondità dell'appartamento e insomma è stato d'accordo con me quindi abbiamo messo su quest'anta e sono due ante tra l'altro non mi ho fatto vedere però l'effetto qui è particolare cioè è ruvido bellino al tatto molto piacevole potrei toccare questo armadio per ore che è una roba strana dire però è vera qui abbiamo la prima ante in cui vabbè vestiti cioè non so che dirvi ci sono i cassetti sotto ci sono i cassetti piccolini mutande calzini t-shirt cose varie ancora non ho portato tutto dall'altra casa come potete ben vedere insomma ci metterò delle ceste in cui capire cosa mettere probabilmente vediamo ora ci ho messo qualcosa qua dentro non ci ho messo niente però insomma metterò delle ceste per gestire bene lo spazio l'unica cosa è che lo split dell'aria condizionata è proprio lì ora abbiamo contatto bene con il design abbiamo preso le misure e dovrebbero essere precise lo scoprirò l'estate prossima male male dovrò far alzare un po' lo split ma non dovrebbe essere troppo un problema male male ne prendo uno che c'ha l'uscita da sopra e non da sotto tutte le ante vabbè sono non so come si dice però si rallentano si aprono facilmente insomma con la menata lì anche di qua abbiamo invece il rack per appendere i vestiti anche qui non ho portato ancora praticamente niente dall'altra casa però comodo e tipo qua ci metto i completi le camicie di qua i pantaloni e cose che devono stare appese dovremmo esserci ecco vabbè lato studio nulla da eccepire se non che questa parte a sinistra che vedete che sembra parte integrante dell'armadio in realtà è stata fatta dal designer in più perché non so se vi ricordate ma qui c'era un piccolo muretto in cartongesso che era come serviva come divisorio invece abbiamo messo una libreria che quando me l'ha proposto io ho detto minchia sì alla grande anche perché spazio in più e soprattutto più libri da poter posizionare e altri specchietti e l'unica cosa che farò qui probabilmente è aggiungere una bella opera qua sopra devo ancora trovarla devo trovare le dimensioni giuste stavo pensando addirittura di commissionarla però non lo so vorrei che fosse qualcosa comunque di figo di caratteristico magari di materico perché secondo me ci potrebbe stare davvero davvero da dio e l'altra cosa è che qui sopra gli interruttori a una certa ci dovrebbe essere tipo qui credo un buchetto con delle tracce elettriche sia a sinistra che a destra e quindi forse metterò delle applique per la luce e basta qui il super materasso cazzo e mazzi vari il solito per il bagno vabbè ci sarà da fare un altro discorso perché mi piace come disposizione però mettere il vc giapponese potrebbe essere più complicato del previsto perché qui là su strada quindi non so se il muro è spesso abbastanza devo parlare comunque con con il designer io volevo fare tutto da solo ma la comodità di usare un designer per gli interni è assurdo gli danni chiavi te le ridanno con la casa pronta è un bijou per la cucina niente da eccepire l'unica cosa che forse vorrò cambiare è il rubinetto perché per il momento sto ragionando con questo cosa che costa tipo 3 euro che ho comprato dal brico che ti fa l'effetto docina che è comodo per pulire i piatti ho usato anche per il piacere di tutti quelli che me lo dicevano anzi che mi invitavano a non levare la lavastoviglia l'ho usata una volta però effettivamente sai quando sei in due persone o comunque in pochi in tre o in quattro questa casa non è che ci puoi stare in dodici ci stai magari in cinque in sei e comunque diventa impegnativo ma poi a meno che tu non faccia davvero 8000 pentole 8000 cene pranzi ci metti un secondo a lavarli a mano onestamente sto pensando se manca qualcosa da comunicare ma direi di no la casa non finisce qui che ci sono delle cose che voglio fare ad esempio questa finestra che ho nella cucina nella parte della cucina nell'angolo cucina da su un ballatoio e quindi è importante che insomma ci sia della privacy però voglio levare le tendine perché ho visto dal buon galeazzi che esistono delle pellicole che puoi attivare e disattivare non so la logistica di quelle cose come funziona onestamente però proverò a inserirle come proverò a far mettere i motorini alle finestre sul tetto con suddette pellicole elettriche così da poter regolare la quantità di luce che entra e che non entra come le tapparelle e cose varie per il momento comunque è tutto questa inquadratura mi piace un botto io vi ringrazio tantissimo per la visione questa casa mi piace ogni giorno di più lo so che diventa ripetitivo perché lo dico in ogni video in cui vi parlo di questa casa però non so cosa dirvi è vero vi ringrazio tantissimo per la visione grazie a NordVPN per aver supportato questo contenuto trovate il link in descrizione nordvpn.com slash surri io vi saluto ciao a turuturututti grazie a tutti grazie a tutti